A Città di Castello, ospite di Oltre Visioni, è con noi il regista e sceneggiatore Stefano Rulli di fama internazionale che propone qui al nuovo Cinema Castello un film documentario dal titolo Il silenzio particolare con il quale ha vinto anche un David di Donatello, molto sentito mi diceva perché è una storia autobiografica. Per chi non è potuto venire qui al cinema, ma di cosa tratta questo film? Come nasce? Nasce con un'esperienza legata alla fondazione La Città del Sole, che è una fondazione che si occupa di progetti di vita per persone con problemi mentali, che ho fondato anni fa con Clara Sereni e attraverso il quale vive mio figlio che è un ragazzo con problemi mentali. Una delle esperienze di questa fondazione era quella di ospitare dentro dei casali vicino San Benanzo, vicino Orvieto, delle persone con problemi insieme con delle famiglie cosiddette normali per il momento della vacanza. Perché uno dei problemi si pensa sempre all'inserimento lavorativo, all'inserimento nel tempo libero, però poi c'è il problema delle vacanze che riguarda tutta l'intera famiglia a dire le persone con problemi. Allora ci sembrava importante creare uno spazio dove potessero anche i genitori vivere un'esperienza di vacanza vera, libera, per cui potevano lasciare dei ragazzi lì con noi alcune ore, andare a fare una passeggiata, andare a vedere una città vicino. Quindi l'idea era di fare un documentario per raccontare queste cose. Poi mentre facevo queste riprese lì al casale Matteo, che è mio figlio appunto di cui parlavo prima, è venuto a vedere queste riprese e a un certo punto si è messo in mezzo durante le riprese. Io pensavo che fosse un elemento di fastidio, cioè come se lui non volesse che facessi queste cose. Però non era un atteggiamento aggressivo, era quasi scherzoso, non riusciva a capire la cosa e poi l'operatore dice ma forse vuole starci pure lui in campo e allora ho deciso di provare a fare alcune scene per vedere se lui voleva starci dove c'erano questi altri ragazzi ma c'era anche lui e ho capito che in qualche modo forse il film poteva essere un modo per comunicare tra di noi qualcosa che non avevamo mai fatto prima, perché di solito i ragazzi come Matteo che non sanno leggere e scrivere, insomma ancora adesso, non puoi avere un rapporto come padre che gli insegna a scrivere, fai i compiti con lui, questa esperienza che è un'esperienza non solo didattica, è un'esperienza affettiva non c'era stata tra di noi e questo film in qualche modo ha sostituito quel momento lì di fare una cosa insieme, fare una cosa insieme per gli altri, fare una cosa insieme perché è bella, fare una cosa insieme dove ognuno ha un suo ruolo, non perché tu sei malato e io sono Sara, no perché io sono tuo padre e tu sei mio figlio, in questo senso è stato prima di tutto un film che abbiamo fatto per noi due, dopodiché quando l'ho visto ho pensato che potesse essere utile farlo vedere anche agli altri perché in qualche modo spesso capita a genitori come me insomma, di sentire a volte che quella distanza, quell'imbarazzo che c'è nelle famiglie cosiddette normali verso te e tuo figlio nasce da una mancanza di umanità, da una mancanza di solidarietà, io credo invece che possa nascere soprattutto da una mancanza di conoscenza che crea difficoltà e imbarazzo, allora era un film per aiutare i cosiddetti normali a capire e per lanciare un ponte, per capire che in fondo poi queste vite hanno molti punti di contatto, al di là del problema della diversità, perché tutti abbiamo dei dolori rispetto ai nostri figli, abbiamo delle speranze, poi cambiano di segno, però magari uno spera che il suo figlio vada a Harvard e per me era un miracolo quando Matteo ha fatto la prima O, ha chiuso un cerchio, sono grandi percorsi lo stesso, allora penso che questo film possa aiutare a superare quelle barriere, per dare un suo contributo in questo senso. Matteo è il protagonista di questo film, come ha reagito nel momento in cui si è rivisto in una sala cinematografica ad esempio come questa sera e può essere considerato anche una forma diciamo di terapia? Ma io ti posso ricordare il primo approccio, quando ho avuto un primo montaggio del film, prima di decidere se farlo vedere in sala oppure no, l'abbiamo visto a casa insieme con la madre e noi tre insomma, ci siamo messi davanti a un televisore, abbiamo messo questo nastro e l'abbiamo visto insieme, ora Matteo non ha mai visto un film con me, noi al cinema non andiamo mai insieme perché lui sarà il buio, sarà la mia persona, è una roba mia al cinema, lui non ne vuole a che sapere. Quella sera è rimasto seduto un'ora e mezza a vedere senza mai muoversi questo film e alla fine del film, io volevo dire, ma poi non è in critica, ma ti è piaciuto, non ti è piaciuto? Prima che parlassi io lui mi ha detto papà mi fai rivedere la scena dove piango, perché c'è una scena in cui lui piange e allora l'ha rivista due o tre volte e ho capito che lui lì stava vedendo se stesso per la prima volta in un momento di difficoltà e quindi quella cosa si poteva vedere, si poteva vivere, non succedeva, non moriva nessuno, c'è questa sensazione che a volte è anno di perdita rispetto a una crisi, a sentirsi perdersi per cui non puoi lasciarti andare, invece no, quella cosa la si poteva rivedere insieme senza che questo fosse drammatico e questo è stato il primo momento per cui se lui ha accettato questo, ho detto probabilmente può accettare di farlo vedere anche a un pubblico, l'abbiamo portato, è stato invitato al Festival di Venezia, siamo andati a Venezia, è venuto anche lui a vedere il film con tutto il pubblico, mi ricordo ancora quella sala pienissima, c'era con noi anche un accompagnatore psicologo perché se c'era un momento di difficoltà potesse aiutarci a affrontarlo, però abbiamo anche detto se è stato in grado di farlo questo film è in grado anche probabilmente di capire con gli altri che cos'è un film e alla fine dello spettacolo appunto è stato un grandissimo applauso, lui è venuto lì con gli altri, siamo stati lì seduti e poi c'è stato tutto il dibattito, lui ha aspettato, stava lì, la cosa divertente è che lui ha un grande mito che è quello del cappuccino, prende il cappuccino la sera, non si può prendere il cappuccino la sera perché se allora non dormi, gli dico sempre, allora quella sera un po' perché ero anche agitato io all'idea che magari quella sera andasse storto, guarda Matteo se ti comporti bene, stasera cappuccino, parete, torniamo al film, finisce il film, c'è il dibattito, il dibattito è piuttosto bello ma a un certo punto finisce ma non si alzava nessuno, cioè la gente non se ne andava per rispetto verso di noi come un fatto di cortesia, io non me ne potevo andare perché il regista non può andare via finché il pubblico non rimane lì e c'è stato un momento di un minuto dove non si capiva che cosa doveva succedere e a un certo punto Matteo si stava vicino e mi diceva papà ma il cappuccino quello ci ha salvato tutti da una situazione di immobilità e ci siamo andati a prendere questo cappuccino che mi ricordo ancora. Quindi un film documentario che è anche una soddisfazione per il padre, altri progetti per il futuro? Beh insomma il cinema, io faccio lo sceneggiatore, questa è un po' la mia vita, la mia professione quindi proseguo a fare quello insomma, però questo film resta per me come un film particolare come un silenzio particolare perché mi ha permesso, ho fatto vari altri film che parlano della malattia mentale, nello stesso periodo ho scritto la sceneggiatura di un film per Gianni Amelio sullo stesso tema che è il rapporto tra un padre e un figlio, però lì in qualche modo come raccontato qualcosa che già sapevo, invece questo film è stato qualche cosa che ho vissuto, non lo sapevo, è stato come un diario e via via che lo giravo, ho capito delle cose girando, ho capito delle cose montando il film soprattutto, quando tu ti rivedi come personaggio e non più come quello che crea i personaggi ma lo sei tu il personaggio e ti devi studiare, devi capire che cosa è vero e che cosa non è vero in quel personaggio che sei tu, credo che per me è stato molto utile per capire che cosa sono io nell'essere padre attraverso quell'immagine di me che non controllavo, era l'immagine più reale di quella che pensavo io, quindi è stata un'esperienza molto importante proprio anche a livello personale. Stefano Rulli è anche il presidente del Person Film Festival, un importante festival cinematografico che si svolge a Perugia in autunno, quest'anno quali sono le novità, i personaggi che porterà a Perugia e magari chissà in futuro anche a Città di Castello? Il Perso è un festival di cinema documentario sociale, ogni anno è un festival nazionale internazionale, cioè ci sarà quest'anno una serie di cambiamenti insomma perché ci saranno dei film internazionali che hanno vinto degli altri festival internazionali, quindi il meglio del cinema documentario sociale insomma e la sua caratteristica è di non essere soltanto un festival di film ma di avere dentro anche momenti di convegno, di approfondimento sui temi che i film raccontano insomma, per esempio l'altro anno al centro c'era la psichiatria per cui accanto ai film del concorso abbiamo fatto una rassegna di film sulla psichiatria nazionale e internazionale e un convegno su quelli che sono i problemi più importanti qui in Umbria oggi sul terreno della psichiatria, affrontiamo i problemi del lavoro, della prostituzione insomma quindi è un festival che in qualche modo cerca, noi pensiamo che oramai col web si sa tutto e penso che c'è chi dice ma non serve più fare questi documentari, io penso invece che sia un po' l'altra faccia del web, cioè la possibilità in quel materiale informativo di andare dentro la notizia con la qualità che dà l'arte, che dà l'artista insomma e quindi in questo momento c'è molta qualità artistica nel documentario, a volte dico la verità, io faccio lo sceneggiatore ma il cinema documentario italiano è a volte più interessante del cinema di finzione, sarà la difficoltà di costruire delle storie oggi in un paese così confuso, capire cosa c'è, tu quando scrivi una storia devi sapere cosa vuoi raccontare e spesso non lo sai perché non capisci cosa sta accadendo, il cinema documentario invece ha quella forza di rappresentare quello che accade, quindi ti aiuta a capire, non lo sai in partenza però vedi e capisci che dei segnali di questo paese, dei segnali di alcuni problemi, ecco in questo senso è un festival a mio parere che è utile in un momento come questo, un festival di cinema documentario che ti aiuta a sentire qualcosa di questo paese che ancora non riusciamo a definire, non riusciamo ancora a trasformare in progetto politico, in progetto sociale, però esiste quest'Italia, esiste quest'Italia, esiste quest'Europa con le sue contraddizioni ma anche con le sue esperienze interessanti, sono delle esperienze a volte molto piccole ma che hanno dentro di loro un valore universale, una forza che deve diventare esempio per altre cose e qui in questo l'artista, l'arte ci aiuta a casimire, a segnalarci che quella piccola cosa c'è dentro qualcosa di grande e io penso che un festival debba aiutare il pubblico a capire questo, cioè c'è qualcosa di importante anche nei piccoli film, anche nei corti, anche nelle opere che non hanno degli attori.